Si svolgerà domani alle ore 18 presso l'Hotel Grazia di Eboli l'incontro dal titolo Ritrovarsi nella comunità, costruire il futuro. L'incontro voluto dal comitato organizzativo con Adolfo Lavornia, Pasquale Lettera, Fabio Maglione rientra nell'ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione Arambè che si pone come obiettivo di riavvicinare la politica al territorio partecipando direttamente insieme ad associazioni antipolitici e culturali alla vita politica del Paese. Diversi temi da affrontare, politiche sociali, integrazione, agricoltura, università ed esperienze di impresa di un Sud che vuole essere presente con passione e vuole costruire percorsi con impegno. Dopo i saluti dei promotori dell'iniziativa sono previsti gli interventi del presidente di Empidia, Maurizio Tramontano, della vicepresidente della consulta per gli immigrati della provincia di Salerno, Fatia Shakir, del direttore di Confagricoltura Salerno, Carmine Libretto, del direttore scientifico del laboratorio di ricerca Cross Cultural Competence Università degli Studi di Salerno, vice della Piana e del titolare di Anteco SRL Giuseppe Del Pizzo. Le conclusioni sono affidate al senatore Matteo Ricchetti. Grazie.